Altro tassello a centrocampo per il Pescara di Mister Baroni che punta sulla mediana bianco-azzurri infatti che potranno contare sull'esperto Flavio Lazzari centrocampista classe 1986 l'anno scorso a Novara ormai da giorni il calciatore era nel mirino degli Adriatici. Lazzari rappresenta una pedina importante col Pescara scatenato che ha messo gli artigli su Matthias Pogba, punta centrale di 23 anni fratello maggiore del nazionale francese e centrocampista della Juventus Paul. Nell'ultima stagione Matthias Pogba ha giocato in Inghilterra. Capuano è stato ceduto al Cagliari di Zeman ritrovando così il suo ex allenatore la Serie A. In cambio sbarca in Abruzzo Dario del Fabbro classe 95 difensore centrale di prospettiva. Per il centrocampo Mister Baroni continua a chiedere Marcel Buechel e il Pescara è sulla buona strada per avere l'ex lancianese che a sua volta punta la Serie A ma in caso di mancanza di offerte sbarcherà appunto a Pescara anche se Perugia, Modena e Spezia se lo contendono. Anche Riccardo Improta potrebbe molto presto approdare in Abruzzo l'attaccante di proprietà del Genua. Il Pescara insomma col colpo in canna piazza sempre più manovre in entrata. Grazie a tutti.